Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro terzo incontro della quarta serie, del quarto anno dei giovedì della consulta, che sono degli incontri sulla storia di Bologna, tenuti, e lo ringraziamo sempre per questa sua grande disponibilità, dal professor Roberto Corinaldesi, il nostro storico ed esperto di Bologna, appassionato di Bologna. Gli incontri sono organizzati dalla consulta Frantiche Istituzioni Bolognesi, che è un organismo che è nato nel 2002 circa, per riunire oggi 28 storiche associazioni, fra poco saremo 29, queste istituzioni, queste associazioni, questi gruppi che operano a Bologna, la più antica dal 1170, ininterrottamente nel campo sociale, sanitario, culturale, scolastico, eccetera, a tutela dei Bolognesi e della città. E quindi dobbiamo ringraziare queste storiche istituzioni. Oggi ve ne voglio presentare alcune, mi prendo alcuni minuti per permettere a tutti di entrare, siete in tanti, quindi c'è sempre chi arriva un attimo in ritardo. Oggi presentiamo le più antiche, la più antica di tutte è proprio l'antichissima e nobilissima compagnia militare dei Lombardi in Bologna. Oggi si parlerà di templari, quindi si parlerà di guerrieri, di soldati, quindi l'origine della compagnia si fa risalire proprio al 1170 a un gruppo di Lombardi, profughi a Bologna a causa delle lotte fra i comuni padani e l'imperatore Federico Barbarossa, e quindi era un gruppo che univa la solidarietà che proveniva da tutti questi soggetti che venivano dalla Lombardia, così come era già successo per la compagnia dei Toschi, che raccoglieva a Bologna gli oriundi toscani. E ancora oggi esiste la compagnia dei Lombardi nella storica sede di Santo Stefano, della chiesa di Santo Stefano, e si riunisce per la nomina del Massaro, degli ufficiali, e per la distribuzione ai milidi delle focacce, delle candele e tante altre cose che potete trovare sul nostro sito. Poi abbiamo la compagnia dell'arte dei Brentatori, 1250, il comune di Bologna c'è un documento che dimostra la nascita di questo gruppo di persone che si occupava del trasporto del vino nelle brente coniche di legno portate a spalla. E poi, in caso di incendio, si mettevano anche a disposizione della città per trasportare l'acqua e spegnere gli incendi. Poi abbiamo la cappella musicale arcivescovile di Santa Maria dei Servi in Bologna, pensate 1346, nasce all'interno della basilica di Santa Maria dei Servi, è una cappella musicale, produce musicisti di grande valore e ancora adesso opera a Bologna. Poi abbiamo la fabbriceria di San Petronio, 1390, il comune di Bologna il popolo decide di costruire da solo in modo autonomo questa basilica che è la sesta chiesa più grande del mondo. All'interno c'è una fabbriceria che governa la basilica e ancora oggi opera dal 1390 fino ai giorni nostri. 1575 è l'arci confraternita dei Santi Giovanni Evangelista Petronio dei Bolognesi in Roma. Nasce proprio da Gregorio XIII che riunisce i bolognesi che sono a Roma con lo scopo di questo sodalizio è le opere di carità, l'ospitalità, l'assistente ai pellegrini di Bologna e delle diocesi di Imola e Faenza all'interno di questa chiesa di San Giovanni Evangelista che da quel momento diventa anche e Petronio dei Bolognesi in Roma. E infine 1663 il Collegio Comelli. L'illustre Domenico Comelli lascia 30.000 monete d'oro in eredità per creare un collegio di giovani studenti di buona fama e vita e ancora oggi c'è. Bene, avremo occasione di presentarle tutte e 28 le nostre storiche istituzioni. Oggi il nostro carissimo professor Corinaldesi ci parla dei Templari a Bologna. La parola a te Roberto e grazie sempre di tutto. Grazie infiniti a tutti voi. È un piacere essere nuovamente con voi questa sera. Adesso provo, ecco benissimo, ho le diapositive, a parlarvi di un altro argomento interessante per la storia della nostra città templare. Ora, indetta da Urbano II al concilio di Clermont-Ferran nel novembre del 1095, il 15 luglio del 1099, la prima crociata guidata da Goffredo di Buglione e Raimondo IV di Tolosa portò alla conquista di Gerusalemme dopo poco più di un mese di assedio e dopo un brutale massacro sia dei combattenti che dei civili, musulmani ed ebrei. Nel periodo che va dal 1099 alla caduta di San Giovanni d'Acri nel 1285, vennero a formarsi in Terra Santa svariati ordini cavallereschi che venivano incentivati sia dalla Chiesa che dai sormani europei al fine di stradarvi una serie numerosa di cavalieri che spesso erano dei turbolenti cadetti di nobili famiglie che vagavano, come ben sapete, in giro per l'Europa alla ricerca di onore, alla ricerca di fortuna. Ora, già nei tempi della prima crociata, Goffredo di Buglione attivò a Gerusalemme l'ordine di aiutare i pellegrini che erano diretti ai luoghi santi. Poi vi erano inizialmente con una tonaca nera che poi in seguito diventò rossa i cavalieri dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme o cavalieri ospitalieri. Tra i più noti vi erano inoltre i cavalieri teutonici che, come dice il nome, erano germanici che erano caratterizzati dalle tunache bianche con una grossa croce nera. Infine vi erano i cavalieri del Tempio di Gerusalemme, o più comunemente detti templari, che erano di fatto i più gettonati di tutti, lo vedrete, che erano caratterizzati da una tunica bianca e portavano sul petto e sul mantello una grossa croce rossa patente cosiddetta che rappresentava la passione di Cristo. Bene, nacquero all'insegna dell'umiltà, come poveri compagni d'arme di Cristo e del Tempio di Salomone. Vivevano di elemosi, avevano fatto voto di consacrare la loro vita alla difesa della Terra Santa. Il sigilo più noto che oggi abbiamo e la presenta in due su un unico cavallo. Il riferimento sia al duplice ruolo di cavalieri di monaci, sia al voto di povertà e sia all'aiuto reciproco che avevano giurato di darsi in battaglia. Infatti in battaglia era loro concesso il grande onore di condurre sempre per primi la carica della cavalleria pesante cristiana, che era una vera e propria truppa corazzata dell'epoca. Loro si consideravano i martiri della fede che serenamente uccidono e serenamente muoiono. Si presume che questa milizia abbia avuto origine tra il 1118 e il 1120, non soltanto allo scopo di proteggere i pellegrini diretti in terra santa, ma anche di difendere la sede cristiana e il santo sepolcro. I fondatori furono nove e provenivano dall'ordine dei cavalieri del santo sepolcro. Erano guidati da un tali che venne italianizzato in Ugo dei Pagani, come il nostro avvocato che prima mi ha presentato. Non so se fosse parente, non lo so. Erano cavalieri che pronunciavano i voti come monaci e non monaci che si facevano cavalieri, come succedeva ad esempio per gli ospedalieri degli ordini San Giovanni. Ora, fin dal primo giorno furono accasermati per concessione di Baldovino, che era re di Gerusalemme, nelle stanze che erano attigua al Palazzo Reale, sulla spianata del Tempio di Salomone. Nel gennaio del 1129, nella capitale di Troyes, Papa Onorio II riconobbi l'ordine e sei anni più tardi, nel 1135, San Bernardo di Chiaravalle, che aveva tra i fondatori lo zio che si chiamava André de Montbar, modificò invece alcune modifiche alla primitiva regola e quindi aggregò i Templari all'ordine di San Benedetto. Infine, nel 1139, il Papa Innocento II, ne sancì l'autonomia dai Vescovi e dal Clero Locale, pubblicando una bolla dal titolo Omne Datum Ottene. Ora, a partire dalla Terra Santa, l'ordine si diffuse rapidamente in tutta l'Europa e qui si arricchì notevolmente con costrucque donazioni e con svariate attività finanziarie e commerciali. Pensate che i Templari svolsero anche importanti compiti per ordine della Santa Sede e in veste di ambasciatori, custodi di tregue, esattori delle decime a favore delle crociate. I vari paesi erano divisi in provincia e ciascuna provincia era guidata da un maestro, cui facevano capo molte case Templari, di cui alcune erano fortificate, se devi ricoprire i castelli, ed erano rette da precettori o commendatori. Cos'è di commendatori? I precettori non erano soltanto a capo solo di cavalieri e dei sergenti Templari, che erano un po', diciamo, gli attendenti anche in combattimento, ma anche di cavalieri laici, di cappellani, di ausiliari e di servitori di vario livello che erano presenti all'interno delle case. Ora, un monaco inglese, di nome Matthew Paris, riportò nella sua Cronaca Maiora, scritta attorno al 1250, che in quell'epoca vi erano nel mondo cristiano circa 9.000, pensate, commende, e circa 870 tra castelli e forti affidati all'ordine. Qui facevano riferimento a vario titolo, come vi ho detto, quasi 100.000 anime tra frati e laici. Di queste, però, soltanto erano 8.000 cavalieri templari compatenti e di questi 3.000 erano stanziati in terra salia. L'ordine templare si insediò attorno al 1130, costruendo commende e magioni lungo gli itinerari più battuti dai pellegrini e dai crociati che andavano in terra santa. Bologna, posta sull'importante via Emilia e in stretto collegamento con la via franchigena e la via costumia, che erano un punto di passaggio sia per i pellegrini che per i cavalieri, che per via mare o per terra andavano in terra santa, fu la sede più importante d'Italia dei templari, a capo della provincia del nord Italia, la cosiddetta Lombardia, che comprendeva anche la Sardegna. A sud, invece, vi era la provincia di Apulia, che faceva capo alla commenda di Monte Sant'Angelo, mentre Roma era al di fuori da queste divisioni territoriali. Ora, i templari arrivarono a Bologna nel 1161 e stabilirono la loro sede nell'odierna strada maggiore. Vedete dov'è la freccia, no? Questa è una mappa del 1600, comunque si vede ancora molto bene. Direi, in quella che fu chiamata la Magione di Santa Maria del Tempio, posta tra Viccolo Malgrado e Via Torleone. Via Torleone che divideva appunto la Magione Templare dal monastero di Santa Caterina. All'Amagine era annessa la chiesa di Santa Maria Maddalena, una chiesa di 23 metri per 10 metri a un'incarata, con un ingresso che era, come di regola per tutte le Oriente, cioè verso Via Malgrado in questo caso, chiesa che è stata demolita dalle bombe nel fine del 1943 nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'entrata principale della Magione dei Templari corrispondeva all'attuale Palazzo Scaroli, Palazzo Scaroli al civico 80-82 di strada maggiore. Ora, i rifacimenti nel corso dei secoli hanno modificato, se non la posizione, almeno l'aspetto del complesso, di cui resta una sala, una sala detta Sala dei Cavalieri, che è conservata e che molto bene conserva il soffitto originale a travi linee e le mure esterne, particolarmente spesse, con delle finestre a sesto acuto. Accanto, lo vedete sulla destra, si ergeva con i suoi 24 metri d'altezza la Torre della Magione. Torre della Magione è che il 12 agosto del 1455 il geniale architetto Aristotele Fioravanti trasportò, come ben sapete, per qualcosa come 18 metri e 24 centimetri, la spostò letteralmente, sollevandola su piani inclinati e rulli, che fece questo per ordine di Achille Malvesti, Malvesti che era il priore protempore dell'ordine dei Cavalieri di Malta, che come vedremo erano diventati proprietari degli immobili. La torre venne poi demolita nel 1825 per volontà di Luigi Aldini che l'aveva acquistata e come era successo per il Malvesti precedentemente pensava di poter trovare, il primo pensava di trovarli nei fondamenti, sotto questo pensava di trovare tra i mure, se vi fosse lì, in qualche maniera, tra qualche pietra, dietro qualche pietra, nascosto un tesoro di Templari. Oggi una lapide all'angolo di Piccolo Malgrado ricorda praticamente l'evento dello spostamento della torre da parte del Fioravanti. Che i Templari bolognesi fossero particolarmente ricchi, si evinse dall'inventario che fu compilato all'atto praticamente del sequestro dei loro beni, inventario che venne compilato da due domenicani, Guidone Bontalenti e Francesco de Mussoni. Erano sei pergamene, sei pergamene delle quali la prima abrasa per cui qualcosa fosse scappata. Da queste pergamene risulta di fatto che oltre alla Magione e alla chiesa di Santa Maria Maddalena, i Templari possedevano in città un'altra chiesetta, la vedete qui in basso a destra, che era la chiesetta di Santo Mobono nella parrocchia degli Alemanni, in più possedevano 15 case con coperto in laterizio e 11 ettari che erano in città coltivati, un ettaro scusate, in città coltivati ad orti, oltre a numerose proprietà nel contado, soprattutto verso oriente, nella parte orientale della città accanto alla Via Emilia. Beh, si può dunque parlare di un grosso patrimonio immobiliare che era costituito tra città e contado di fatto da due chiese, un palazzo, due chiese, tre casamenti, 24 con case con i tetti in tegoli o cosiddette, allora si chiamavano e qualcosa come 400 tornature, vale a dire 80 tretari circa, di terreno agricolo che erano divise, per lo più erano per lo più in arativo ma per il rimanente prattivo, vigneto o d'oltre. Ora, nei magazzini della Magione si conservavano poi 31 castellate di vino, la castellata bolognese a portare il tutto a qualcosa come circa 24.000 litri di vino nonché dei contenitori per 153 corbe di grano, vale a dire anche in questo caso 12.000 litri di grano, quindi una grossa quantità come vedete di bene. Ora, 18 aprile del 1291, allorché i mamelucchi conquistarono San Giovanni d'Acri, l'ultimo baluardo dei cristiani, sulle mura praticamente di San Giovanni morì il gran maestro templare Guglielmo di Boyer. In questo modo con quell'evento venne a mancare l'ultimo lembo di terra cristiana in terra santa e con questo di fatto vennero a mancare i compiti degli ordini che appunto là si trovavano. Ora, i teutonici spostarono la propria base d'azione in Germania e rivolsero particolarmente nella Prussia e rivolsero la propria attenzione ai paesi baltici per cristianizzare le popolazioni pagane la presenti. Gli ospedalieri che erano nati per proteggere i pellegrini sulla via di Gerusalemme costruendo per loro ostelli ospedali eccetera continuarono a svolgere la loro attività prima a Cipro da lì scazzati dai turchi a Rodi poi da lì scazzati ancora dai turchi a Malta e da lì divennero come voi sapete i cavalieri di Malta che continuarono a portare avanti praticamente la lotta contro i musulmani soprattutto nel Mediterraneo. Bene chi rimase di fatto a spasso furono i templari i templari il cui compito prioritario l'abbiamo visto era quello di custodire il Tempio di Gerusalemme e rimaneva loro soltanto compito militare di contribuire alla guerra marittima nel Mediterraneo contro i musulmani e alla riconquista nella Spagna e nel Portogallo massima parte quindi rientrarono nei paesi di origine per amministrare i loro ingenti patrimoni ora l'essere poi tanto ricchi non portò loro molto bene infatti Mal viene incolse perché provocarono odi gelosie nonché la grande avidità di alcuni sovrani orbene la storia racconta che re di Francia Filippo IV ha detto il bello che era pesantemente indebitato soprattutto per le lunghe guerre condotte contro gli inglesi in generale per una politica spregiudicata che aveva portato avanti per riunire di fatto la Francia sotto la sua corona tutto questo consigliato da uno scaltro soggetto il suo il consigliere Bertrand de Gotte cioè Guglielmo di Nogaret e con il consenso di un altro personaggio tutto da da vedere che era il papa Bertrand de Gotte cosa fece? Mosse a false accuse di eresia e di pratiche immorali nei confronti dei templari e il giorno di venerdì 13 ottobre 1307 ecco da dove viene che il venerdì 13 Portiel pare da lì fece imprigionare oltre 500 templari francesi era ovvio lo scopo di incamerarne i beni come di fatto il buon Filippo aveva fatto in precedenza con chi? con gli ebrei poi aveva cacciato e con i banchieri fiorentini che aveva incarcerato prima e cacciato poi sette anni dopo a seguito di un lunghissimo processo in cui fu fatto ampio uso della tortura per estorcere le confessioni il 18 marzo del 1314 il gran maestro Jacques de Molay e le più alte gerarchie dell'ordine furono messe a rogo sull'isola di Ponneuf sulla Senna ora la domanda ti sei proposti e quali furono le ultime parole del maestro Jacques de Molay sul rogo documenti ufficiali riportano che chiese al boia di allentargli un pochino le catene per congiungere le mani in preghiera e di poterlo girare verso la basilica di Notre Dame la leggenda popolare dice invece che Mare disse pesantemente il Papa e Filippo il Bello che guarda caso passarono miglior vita il primo dopo quattro settimane e l'altro nell'autunno cioè a distanza praticamente di pochissimi mesi nel frattempo la bolla papale vorile del 1312 lo scioglimento dell'ordine come era stato in precedenza stabilito dal concilio di Vienne in Borgogna nell'ottobre del 1311 e un'altra bolla a provi d'am Christi Vicari passava tutti i beni dell'ordine dei Templari all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme nessun cenno veniva fatto sul denaro dei cavalieri che per quanto riperito venne totalmente incamerato dalla corona di Francia a nulla valse la corata difesa condotta dal frate cappellano Pietro da Bologna che era un esperto di diritto altrimenti noto come Pietro da Montiacuto o Pietro Roda egli sparì minesterosamente dalle carceri di Parigi il 18 maggio del 1310 per comparire nel giugno dell'anno dopo nel concilio provinciale dei Templari a Bologna e a Ravenna nel processo che era stato istituito dal vescovo Rinaldo da Concorezzo e il processo che poi come vedremo lo vide assolto passato nel 1315 all'ordine gerosimitano cioè se siamo Giovanni fu sepolto nel 1329 nella chiesa di Santa Maria del Tempio sotto una lapide dove fu inciso ecco l'intrepido difensore di Cristo riposo il 24 agosto del 1308 il tascherio che era l'inquisitore per la Lombardia inferiore anche a Bologna fece catturare i Templari e sequestrò i loro beni affidandoli ai vicari i suoi vicari che erano Guidoni e Bontalenti e Francesco dei Mussoni il processo fu però caratterizzato da una serie di rinvii e dall'estrema mittezza in cui lo condusse Rinaldo da Concorezzo che poi diventò santo come ben sapete era l'archivescovo di Ravenna e Bologna in quell'epoca faceva capo appunto alla diocese di Ravenna la tortura infatti non venne mai applicata qui a Bologna a differenza di quanto accade altrove e come richiedevano a viva voce gli inquisitori domenicani che erano Niccolò di Ripatransone e Giovanni di Pissigoti ora Rinaldo da Concorezzo ordinò ai templari bolognesi e della bassa Lombardia soltanto di ritornare alle rispettive città e di presentarsi ai rispettivi vescovi per essere sottoposti a purgazione cioè atti di contrisione di fatto a una totale assurazione ma il Papa il Papa scrisse a tutti i membri della Commissione d'Italia Settentrionale in particolare a Concorezzo accusandoli di non aver istruito il processo con la necessaria accuratezza e ordinandone il riavvio al più presto ora gli archivescovi di Pisa di Firenze obbedir sottoponendo a torturi cavalieri contrariamente ai colleghi invece il riborso di Rinaldo non diede alcun seguito all'intimidazione del Papa i templari bolognesi venero quindi rimessi in libertà comunque nel 1313 anche a Bologna tutti i beni dei templari passarono all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme e dopo vari passaggi di proprietà nell'arco dei secoli dai cavalieri di Malta addirittura fino alla cassa di risparmio l'edificio della Magione fu poi lasciato in eredità del 1942 dall'ultimo proprietario il signor Enrico Pietro Scaroli che era defunto senza eredi e che lo lasciò all'operapia dei poveri vergognosi che lo ha poi affittato e che oggi appunto lo ha in affitto alla Polizia di Stato alla Polizia Giudiziaria alla Belle Arti alla Polizia di Bologna alle poste di Telegrafi ora al posto della Chiesa di Santa Maria Maddalena che fu demolita dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale è stato edificato un palazzo moderno insomma che non è granché non certo tra i più belli come voi vedete che è quello che noi possiamo vedere all'angolo praticamente con Enrico Malgrado ma torniamo alla storia dei templati come risposero in Europa a parte la Francia e l'Italia i vari sovrani praticamente alla bolla che fu emessa dal Papa la bolla facis misericordiam che ordinava in tutta la cristianità la cattura dei templari e il sequestro dei loro beni ora Riccardo Re Riccardo II d'Inghilterra da prima accusò Filippo di avidità poi forse perché anche aveva sposato la figlia la figlia Elisabetta ordinò l'arresto dei cavalieri ne arrestò però solo un numero assai limitato 280 che trattò con estrema clemenza in Aragona invece il re Giacomo II dichiarò subito i templari innocenti ma vuole mettere comunque le mani sul loro patrimonio e quindi fu costretto di fatto a un certo punto dopo a fare che cosa a una lunga guerra con i templari a una lunga guerra con i templari a un certo punto espugnandole una alla volta i vari castelli ora in Germania dove di fatto comandavano i cavalieri teutonici i templari furono se no invitati a comparire a comparire a Magonza per per discolparsi e si presentarono addirittura armati in uniforme poi per essere di fatto prosciolti dall'accuso il più accorto di tutti sicuramente fu re Dionisi un re Dionisi che re della Lusitania che innanzitutto rifiutò di perseguirli e perché era di fatto riconoscente per l'aiuto che i templari gli avevano dato durante la reconquista e nella ricostruzione del paese dopo le guerre li ospitò da veri amici in un suo castello di Castro Morin e dopo averli dichiarati innocenti li lasciò tranquillamente ad amministrare i loro beni e di fatti ben fetti fu costretto comunque a sopprimere l'ordine dei templari l'altro però non fece che mutarne il nome mutarne il nome e i templari di Portogallo diventarono i cavalieri di Cristo poi negoziò con il successore di Clemente V il riconoscimento del nuovo ordine e il suo diritto ad ereditarne i beni e tutte le proprietà dei vecchi templari l'ordine divenne presto ricco e potente e annoverò tra i suoi maestri quel ricco secondo il ricco navigatore che fece del Portogallo una grande potenza marinara e non per nulla se ci pensate bene il nome del paese deriva da Porto del Graal e in più luoghi si può vedere che cosa si può vedere la croce greca patente ora vi domanderete e poi cosa ne fu dei templari secondo alcuni prima della morte sul rogo Jacques de Molay avrebbe affidato la guida dell'ordine a un cavaliere Jean-Marc l'Armenius o dell'Armenie che avrebbe estilato un documento che fu poi chiamato carta dell'Armenius o carta trasmissionis che veniva firmato ovviamente in segreto dai maestri che si erano seduti nei secoli questo documento dei più ritenuto unabile falsificazione fu reso pubblico nel marzo del 1705 da Filippo II duco di Orléans che era nipote del sole Luigi XIV e regente di Francia fino alla maggiore età di Luigi XV egli si dichiarò successore dell'ultimo maestro Henri Jacques de Dufour e convocò a Versailles un capitolo generale che l'11 aprile lo riconobbe gran maestro prese così via il cosiddetto neotemplarismo che ha visto nascere nel tempo una miriade veramente di gruppi spesso altamente conflittuali tra loro che rivendicano tutti di essere gli unici autentici eredi degli antichi cavalieri templari laici sono sempre in genere richiamati a valori religiosi cristiani caritativi molti hanno dichiarato di riconoscere l'autorità del pontefice e della chiesa cattolica mentre altri le sono stati apertamente ostili ritenendo la chiesa corresponsabile della fine dell'anticordio valito peraltro che la santa sede riconosce ora tuttora ufficialmente solo due ordini il sovrano militare l'ordine di Malta e l'ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme l'ordine scomparve scomparve assieme a molti dei suoi componenti con la rivoluzione francese ma nel 1804 fu ricostituito da un personaggio un po' controverso tal Bernard Raymond Fabre Palapra che era un medico un ex seminarista l'antico e sovrano ordine militare del tempio di Gerusalemme fu visto di buon occhio da Napoleone e gli serviva per contrastare le posizioni antimonarchiche della masoneria da cui l'ordine si dissociò ufficialmente nel 1811 ma Palapra finì per allontanarsi anche dalle posizioni cattoliche ormai fondando addirittura nel 1828 una nuova chiesa la chiesa gioannita che sosteneva sulla base ovviamente di un manoscritto verosimilmente falso che Gesù avrebbe scelto come suo successore terreno non Pietro ma San Giovanni evangelista ora dopo numerose scissioni e soprattutto per la posizione anticattolica e una serie di brevi riconciliazioni l'ordine tornò in sonno nel 1871 1871 per essere poi ricreato a Bruxelles nel 1894 dopo alcune diasfore negli anni 40 di essere passato nel 1945 sotto la regenza di Antonio Pinto dei Susafontes si è giunti nel 1995 alla Costituzione dell'Ordo Supremus Militaris Templi Ierosolimitani ciò non ha impedito la nascita come premesso sia in Europa che d'Italia di molti gruppi che dichiarano di dedicarsi alla carità e al volontariato eccone qui alcuni e poi neanche tutti ora Lord Supremus Militaris Templi Ierosolimitani o OSMTH rappresenta oggi la più grande associazione neotemplare la più importante diffusa in 35 paesi del mondo costituito nel 1995 è stato registrato in Svizzera nel 1999 e dal 2002 è riconosciuto dalle Nazioni Unite come organizzazione non governativa e membro consultivo del Comitato Economico e Sociale di questo è afferma di essere una società cavallerisca cristiana ecumenica dedita alla solidarietà alla formazione e alla ricerca storica a capo è stato recentemente nominato uno svizzero Jacques Chardibot a Bologna Bologna oggi rappresenta una delle sette commende in cui è diviso il gran priorato generale d'Italia che conta oltre cento cavalieri ora il dottore Emanuele Parisini che è commercialista noto commercialista bolognese ricopre oggi il prestigioso incarico di commendatario della Fra Pietro da Bologna con lo scopo di mantener vivo il ruolo importante della nostra città svolto nel passato nella storia dei Templati e con ciò vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione non senza dimenticare come al solito quanto ci sono vicini e di supporto in queste nostre chiacchierate grazie di cuore a tutti bene grazie Roberto a te è stato veramente molto molto interessante abbiamo visto anche luoghi di Bologna che abbiamo capito nella loro funzione ringraziamo anche l'associazione Succede Solo a Bologna che garantisce i collegamenti e garantisce la nostra il nostro giovedì il nostro incontro oggi c'è stato qualche piccolo problema nella ricezione alcune parole non si sono sentite adesso dovremo intervenire c'è stato qualche piccolo problema ma è normale insomma può succedere quando ci sono molti collegamenti io ho già alcune domande invito tutti a farle in domande e risposte trovate il bottone il pulsante in basso sulla sinistra dove potete scrivere la vostra domanda che leggerò se qualcuno vuole apparire in video ben volentieri alcune sono già arrivate Giulio ci segnala infatti qualche problema nella ricezione chiediamo scusa a lui a tutti i nostri telespettatori ma purtroppo c'è stato qualche piccolo problema poi no io non sono un erede dei templari l'hai detto prima abbiamo lo stesso nome ma non sono non ho nessun parente anche perché ero un francese se ben ricordo quel fondatore giusto? però non si sa mai non si sa mai io sono bolognese doc e quindi non sono un parente ma questo penso che sia una battuta poi Francesca esiste ancora oggi a Bologna l'ordine dei templari forse questa l'aveva fatta la domanda prima della tua parte finale sì esiste e Roberto ci ha presentato anche in fondo non so se vuoi dire qualcosa anche sulle attività che svolgo mi sembra che hai partecipato anche una volta che hai tenuto una relazione e un incontro storico da loro per presentare questa tua questa tua ricerca come vi avevo detto di raccolta storica di tutto quello che si può riconoscere appunto sulla storia templare che è molto importante e sono state pubblicate in diversi note e volumi anche se diciamo la verità e poi opere veramente di solidarietà e di carità moltissime quello che voglio dire è che di fatto ad esempio è contraddittorio a un certo punto il discorso delle proprietà per quello ci sono state scritte tante cose ma anche tante cose inesatte perché ad esempio io ho letto su alcuni siti in particolare siti anche ufficiali diciamo bolognesi di alcune proprietà diciamo dell'ordine dei templari che di fatto non lo erano erano di altri ordini in particolare dell'ordine di San Giovanni ad esempio la parte dove è stata costruita diciamo San Petronio quello è quell'otto di terreno dove è stato costruito San Petronio pare fosse precedentemente dell'ordine di San Giovanni e qualcuno ha scritto in qualche sito che erano dei templari e che le proprietà dei templari arrivavano fino a Piazza dei Celestini oggi abbiamo la possibilità anzi arrivavamo anche prima ma comunque è stato interpretato molto bene ci sono tutti riportati tutti i documenti che riguardano proprio i passaggi di proprietà quando ci fu l'esproprio quelle famose sei pergamene a un certo punto sono state messe a disposizione ed è possibile a un certo punto sapere dettagliatamente uno per uno cos'erano dove erano sia le case sia i poderi sia tutto quello che era di proprietà dei templari addirittura in un sito bolognese si dice che c'erano quattro chiese e non è vero ce ne erano due c'era la chiesa appunto della Magione e c'era Sant'Omobono erano le due dei templari e basta cioè bisogna bisogna fare un po' d'ordine in questo ad esempio in questo si danno da fare i templari i neotemplari bolognesi proprio per cercare di far dire le cose come veramente sta evitare dei falsi storici che sennò si perpetuano e diventano storia vera la chi è verissimo ci sono due domande che sono molto similari le vado a leggere tutte e due assieme Lamberto che dice nessun rapporto con il sovrano ordine di Malta e Donatella che dice non ho capito professore se a Bologna coincidono con i cavalieri di Malta ecco anche qui ho perso un pezzo ah scusami allora forse sì Lamberto chiede se c'è un rapporto con l'ordine di Malta e Donatella se coincidono con i cavalieri di Malta erano due ordini due ordini che erano nati tutte e due in terra santa chiaro il problema l'ordine che si chiamava di San Giovanni che poi è diventato prima dei cavalieri di Rodi e poi diventato dei cavalieri di Malta che cominciavano avevano all'inizio una casacca cioè una tunica nera con la croce bianca e poi diventò rossa con la croce bianca chiaro questi sono i cavalieri di Malta sono diventati i cavalieri di Malta nel 1530 quando a un certo punto Carlo V che era in quanto reggente di Sicilia a un certo punto dette donò all'ordine di Malta l'isola perché loro scazzati da Rodi dai Turchi per circa un vent'anni o giù di lì o più rimasero senza sede per quanto riguarda il rapporto con i Templari a un certo punto loro ereditarono di fatto tutti i beni immobili dei Templari quando a un certo punto il Papa decise lo scioglimento dell'ordine Clemente V decise di sciogliere l'ordine dei Templari passò tutte le proprietà dei Templari all'ordine di San Giovanni cioè quello che è diventato l'ordine di Malta chiaro discorso né più né meno e molti dei Templari Bolognesi che erano stati di fatto a un certo punto scagionati passarono nell'ordine di San Giovanni ecco l'ordine di Malta l'ordine di San Giovanni è l'ordine di Malta allora Pierluigi Costa ti pone una domanda storica molto a mio parere difficile ma molto bella e professore ha qualche informazione sulla supposta preesistente conoscenza dei Templari di quello che sarà il continente americano scoperto poi da Colombo si dice che i Templari quindi lo avessero già scoperto prima o lo avessero sai qualcosa su questo? allora i Templari portoghesi cioè come abbiamo detto furono dei grandi navigatori furono di fatto la potenza navale del Portogallo e l'ascesa del Portogallo economica non tanto in terra perché avevano di fianco un vicino e lì furono molto furbi perché avevano vicino un cliente che non era molto gradevole che era la Spagna loro decisero per una politica diversa si buttarono sul mare sul mare diventarono quei grandi navigatori che crearono colonie in tutto il mondo in particolare nella Sud America il Brasile Brasile era faceva parte del grande impero portoghese no che i Templari conoscessero prima l'esistenza del nuovo mondo non mi risulta direi direi di no perlomeno non ci sono fonti in questo senso mi pare un pochino un pochino zardare come cosa come ipotesi sicuramente sicuramente sul mare ci andavano ci si pene andare ma ci andavano dopo dopo che a un certo punto furono sciolti insomma il Portogallo diventò una potenza marinara proprio in funzione del grande aiuto anche economico che fu dato l'ora del Templario supportarono di fatto la scelta del Portogallo Antonio fa come avete visto Enrico il navigatore pronto? ogni tanto va via ogni tanto Roberto vai via però cerchiamo di arrivare fino in fondo ogni tanto c'è qualche problema io ho l'ultima domanda che è di Antonio che dice ma professore ci dica la verità il tesoro è nascosto ancora da qualche parte a Bologna iniziamo a scavare oddio già di scavatori ce ne sono abbastanza ropersi le balle a Bologna chiedo scusa facendo bucchi dappertutto no a parte quello a parte quello il problema è molto semplice sicuramente quando io ho detto che il decollo del Portogallo è merito dei Templari perché stupidi fini in fondo non erano quando a un certo punto insomma allora non c'erano non c'era internet non c'erano i telefonini per cui a un certo punto davano diciamo la notizia arrestati i Templari e in cinque minuti arrestati e pagavano in cinque minuti arriva la polizia ci prende e ci carica allora tempo con un certo momento Filippo mettesse fuori dicesse becchiamo i Templari in Franza li avevano beccati quasi tutti perché ne hanno beccato un certo numero ma nel resto del mondo sono scappati come delle lepri e con loro hanno caricato dal momento che avevano una grandissima flotta mercantile perché avevano erano diventati degli splendidi commerzanti i Templari avevano queste flotte che andavano per il Mediterraneo con un spettacolo loro sono scappati addirittura si parla della famosa fuga da San Giovanni quando scapparono attraverso questi cunicoli che avevano creato sotto San Giovanni imbarcarono probabilmente non solo i cavalieri ma imbarcarono tutto quello che avevano un sacco di soldini allora tutti questi soldini li hanno portati in quel posto sicuro che probabilmente era proprio la Lusitania che poi diventò Portugale ecco Portugale io la vedo così scavate finché volete ma mi dicono troppo scatta poco allora un'altra domanda della signora Concetta i Templari sono Templari i cavalieri che una o due volte all'anno fanno la guardia in Santo Stefano al Sepolcro no quelli sono i cavalieri del Santo Sepolcro credo basta vedere come hanno la cosa come hanno il mantello probabilmente o sono i cavalieri di Malta o il Santo Sepolcro francamente non lo so credo siano quelli del Santo Sepolcro allora chiediamo alla signora Concetta di chiederlo la prossima volta va là glielo chiede così poi ce lo dice anche a noi così sappiamo non penso che i Templari facciano questo servizio magari lo chiediamo al nostro amico Emanuele allora un'altra domanda sempre di Pierluigi Costa che ringraziamo sempre perché è bravissimo e ci segue in ogni nostro incontro allora Pierluigi dice il Pietro Roda da Monte Acuto sarebbe la nostra località di Monte Acuto delle Alpi di Liffano in Belvedere quella di Liffano in Belvedere vicino a Bologna provincia di Bologna no no infatti si chiama si chiama cioè Pietro infatti lo chiamano Pietro da Monte Acuto alcuni diciamo testi oppure salta fuori come Pietro Roda oppure salta fuori come Pietro da Bologna quando si parla del processo a Parigi è Pietro da Bologna poi lo vedi a Ravenna che è ancora Pietro di Monte Acuto da Bologna quindi è sempre lui sempre lui che gira che morì appunto nel 1328 perfetto e morì da da monaco del monaco dell'ordine dei Cavalieri di San Giovanni diventati poi di Ro benissimo ci risponde ancora la signora Concetta e quindi l'assumiamo come nostra investigatrice per Santo Stefano lei vada e chiede informazioni per conto nostro bene io non ho nessun'altra domanda allora intanto vi invito al prossimo incontro che è giovedì prossimo 14 marzo parleremo della società medica chirurgica bolognese la più antica del mondo la società medica è un'istituzione della nostra consulta il professore ne ha fatto parte la diretta per tanto tempo e parleremo di questa che è la più antica del mondo come società medica chirurgica bolognese ancora operante sul territorio quindi vi aspettiamo tutti il 14 marzo giovedì alle ore 19 sempre via zoom grazie al professor Corinaldesi e grazie a tutti voi che siete rimasti con noi un saluto